Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. La drammatica situazione internazionale in Medio Oriente farà sì che probabilmente il drammatico appello del Cardinale Joseph Zen cada nel vuoto, almeno sui mass media generalisti e sugli organi di informazioni allineati al regime attuale, ma non si può non rilanciare quello che scrive il coraggioso porporato cinese. Zen ha inviato nei mesi scorsi una lettera personale a tutti i cardinali e non avendo avuto evidentemente una risposta positiva o meno, ha deciso di renderla pubblica in questi giorni. Scrive Zen, citiamo, Mi scusi del disturbo che questa mia le causerà, è che in coscienza credo il problema che presento non riguarda solo la Chiesa in Cina, ma tutta la Chiesa, e noi cardinali abbiamo la grave responsabilità di aiutare il Santo Padre nel guidare la Chiesa. Fine della citazione. Così comincia il messaggio del porporato che critica soprattutto gli orientamenti pastorali emanati dal Vaticano e che incoraggerebbero, nelle parole di Zen, i fedeli in Cina a entrare in una Chiesa scismatica, indipendente dal Papa e dagli ordini del Partito Comunista. Ora, a conferma di quanto scriveva mesi fa nella sua lettera il Cardinale, vediamo che dal primo febbraio prossimo andrà in vigore in Cina un regolamento per le associazioni religiose e, in pratica, sono regole che decidono dell'organizzazione, delle funzioni, delle cariche, della supervisione, dei piani di lavoro e dell'amministrazione economica delle comunità e dei gruppi a livello nazionale e locale. Ogni aspetto della vita delle comunità religiose, dagli insegnamenti ai raduni ai progetti annuali e quotidiani, sarà sottomesso ad approvazione del Dipartimento per gli affari religiosi del governo. E il regolamento esige che il personale religioso sostenga, promuova e attui, fra tutti i membri delle loro comunità, una sottomissione totale al Partito Comunista cinese. Infatti si afferma che, citiamo, le organizzazioni religiose devono aderire alla leadership del Partito Comunista cinese, osservare la Costituzione, le leggi, i regolamenti, gli ordinamenti e le politiche, aderire al principio di indipendenza e di autogoverno, aderire alle direttive sulle religioni in Cina, attuare i valori del socialismo. E ancora, le organizzazioni religiose devono diffondere i principi e le politiche del Partito Comunista cinese, educando il personale religioso e i cittadini religiosi a sostenere la leadership del Partito Comunista cinese, sostenendo il sistema socialista, aderendo e seguendo il sentiero del socialismo con caratteristiche cinesi. Fine della citazione. Il cardinale Zendici li ha rappresentato al pontefici i suoi dubbi sull'accordo Cina-Vaticano il 10 luglio e scrive Il porporato cinese, nella sua lettera e nei suoi commenti, critica pesantemente il cardinale Parolin e lo accusa, fra l'altro, di manipolare il pensiero di Benedetto XVI. Scrive E conclude, rivolto ai confratelli Cara Eminenza, possiamo assistere passivamente a questa uccisione della Chiesa in Cina, da parte di chi dovrebbe proteggerla e difenderla dai nemici? Supplicando in ginocchio vostro fratello, cardinale Joseph Zend. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di Podcast Cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.